Verona-Lazio termina 4 a 1 per il Verona questa partita di oggi 24 ottobre 2021 domenica il Verona sfodera un poker di gol davvero epico, davvero sublime, davvero straordinario, azardo a dire Lazio fa soltanto un gol e basta, la risposta della Lazio non si fa disattendere arriva al 46esimo di gioco, Cero Immobile infatti la mette dentro ma questo gol non porta alla vittoria della Lazio il Verona infine fa ben 4 gol e pensate che tutti e 4 i gol sono stati fatti da un unico giocatore ossia Giovanni Simeone al 30esimo del primo tempo, al 36esimo del primo tempo, al 62esimo del secondo tempo e al 92esimo del secondo tempo, quindi 2 al primo tempo, 2 al secondo tempo una partita dove il Verona ha brillato sia nel primo che nel secondo tempo poche occasioni buone secondo me per la Lazio e tanto tanto spreco di energia di quella Lazio che effettivamente parlando non ce l'ha fatta e ha perso clamorosamente parlando contro il Verona il Verona ha giocato in casa, infatti è stato Verona-Gilazio e non Lazio-Verona vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi cari utenti di Youtube, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate un saluto caro e al prossimo video